come fare quello che voglio ero uno studente di liceo artistico e pensavo a fare l'artista e fare l'artista per me voleva dire svegliarsi a qualsiasi orario disegnare tutto il giorno e avere regole tutte mie insomma fare quello che volevo e quello che mi piaceva non volevo pensare ai soldi ma solamente a disegnare per il mio piacere ovviamente erano i pensieri di un sedicenne per carità pensavo che chi vendeva le proprie opere a tutti i costi fosse un venduto o un votato al denaro argomento tabù anche per gli anni 90 i soldi e soprattutto nominare i soldi all'interno di un liceo artistico era come nominare satana all'interno di una chiesa però un giorno iniziai il mio corso di scultura precisamente discipline plastiche e il mio insegnante a differenza di molte persone che lavorano nel mondo dell'arte è uno che vende con continuità tuttora le sue opere sono molto richieste ovviamente questo faceva storcere il naso anche agli artisti over 50 che pensavano che chi fosse all'interno di un circuito artistico con tante commissioni in realtà lo facesse solo per soldi e non per il sacro amore per l'arte studiai con questo insegnante e imparai davvero il mestiere e cosa vuol dire guadagnarsi da vivere con la propria passione da quell'anno in poi iniziai a vedere la vita sotto un'altra lente d'altra parte io sono un fan degli oasis e in una canzone noel gallagher dice life is a game we play ovvero la vita è un gioco in cui giochiamo e se non ti piacciono le regole del gioco secondo me non dovresti giocare immagina se ogni calciatore cambiasse le regole del gioco a suo piacimento sarebbe poi un divertimento secondo me no e questo vale sia per i giochi da tavolo che per lo sport ma arriviamo all'età della maturità io cresco e come tutti i ventenni ho bisogno di soldi decido di accettare le mie prime commissioni a differenza di molti dei miei coetanei io dovevo lavorare per continuare a pagarmi gli studi e qualsiasi fonte di denaro qualsiasi introito era ben accetto per la mia causa ovviamente una commissione come in tutti i lavori implica una data di consegna cosa che spesso i miei colleghi non riescono a rispettare forte della palestra mentale fatta dal mio insegnante di scultura devo dire che questo per me non è mai stato un grosso problema anzi ne ho fatto uno dei miei punti forti ma come sono riuscito a raggiungere la libertà che tanti artisti cercano come l'ho imparato beh ecco ho svelato il segreto una delle frasi che mi ricordo sin da ragazzo appunto una di quelle che mi disse il mio professore è che quando tu fai l'artista o come nel tuo caso il libero professionista la vera libertà o l'unica libertà che ti puoi prendere sta proprio nello scegliere di farlo o non farlo ma che vuol dire se decidi di fare il social media manager piuttosto che il grafico insomma capito di che cosa sto parlando l'unica decisione che puoi prendere una delle poche decisioni che puoi prendere è proprio intraprendere quella professione dopodiché la tua libertà sarà limitata dalle esigenze dei clienti le tue esigenze economiche e le esigenze del mercato che ti piace o no si dice libero professionista ma in realtà di libertà ce ne sono poche allora perché molte persone scelgono di fare o di intraprendere una libera professione dov'è poi tutta questa libertà premetto che secondo me chi sceglie di fare il libero professionista lo fa mosso prima di tutto da una grande passione ovvero non conta i minuti che spende davanti al computer a fare grafica o le ore che passa a scrivere testi come copywriter e questo vale per tutti i lavori la passione è una di quelle cose anzi addirittura spesso deve diventare ossessione che ti fa dimenticare l'orologio le scene con gli amici gli aperitivi in piazzetta insomma tutte quelle cose che fanno le persone normali per divertimento o svago questo non vuol dire che diventerai un eremita ma soprattutto nel primo periodo della tua carriera da lavoratore indipendente dovrai investire parecchio tempo sacrificando gran parte dei tuoi svaghi quindi chi fa un lavoro da libero professionista in realtà non ha tanta libertà se non quella di fare quello che gli piace ogni giorno della settimana altrimenti la tua scelta dovrebbe essere quella di fare un lavoro da dipendente e poi dedicarti e costruirti una carriera parallela nel weekend che spesso resta una forma di dilettantismo ti sembra una bella vita adesso la palla passa a te vuoi fare il dilettante nel weekend o il professionista tutta la vita da questo cambierà anche il modo che è di vedere te stesso io devo dire che prima lavoravo per un'azienda e poi ho iniziato a lavorare solo per conto mio le responsabilità e i pensieri sono aumentati e le ho avuto in cambio oltre ai guadagni è una visione più alta di me stesso inoltre questa circostanza mi ha messo quasi in condizioni forzate cosa che a me piace di migliorare me stesso ogni settimana ogni giorno tra le altre cose devi essere anche bravo se fai il libero professionista nel trovare pure il tempo per formarti ed aggiornarti perché ci sono molte professioni che implicano una formazione continua quindi se quello che stai facendo non ti piace veramente tanto addirittura da non passare da passione ad ossessione ti consiglio di non cercare la libertà nel lavoro ma magari di cercarla in un hobby questo per il bene tuo della tua famiglia e soprattutto per la tua serenità perché come tante cose nella vita viste dal di fuori sembrano tutte belle ma anche le cose più belle ad esempio fare l'artista o il cantante lo sportivo ad alti livelli implicano responsabilità e sacrifici in mani e se queste cose non sono veramente la tua passione e la tua ossessione diventeranno una tortura in conclusione occhio a quello che desideri se vuoi una tavolata di amici a casa per cena devi essere poi pronto a lavare i piatti e a mettere di nuovo tutto in ordine quando la festa è finita in poche parole anche le medaglie più luccicanti hanno il loro rovescio conoscilo ed accettalo renderà il tuo percorso di crescita più prevedibile e quindi più facile da affrontare fai un elenco di quello che pensi di dover affrontare prima di iniziare un nuovo percorso sia onesto con te stesso e poi trai le conclusioni non ci sono solo costi e ricavi economici nella vita professionale il lavoro intacca tutti gli ambiti della tua esistenza spero che tu abbia capito che la libertà totale non esiste se ci pensi quello per cui si batte l'umanità da secoli e cosa che gli riesce difficile tutt'oggi è proprio la gestione della libertà a causa di essa ci sono ancora conflitti e guerre come quelle che hai studiato a scuola e come quelle che combatti ogni giorno dentro di te sei pronto o pronta a combattere la tua battaglia personale per la tua libertà beh fammelo sapere nei commenti io sono turi papale e questo è il mio podcast